E' una gratificazione per tutto il lavoro che è stato fatto dalla fine della scorsa Olimpiade fino a oggi. Sono stati cinque anni molto intensi, molto duri per vari motivi, non solo per il Covid, ma per altri motivi più o meno personali. E abbiamo veramente lavorato sodo, lavorato su tutti i fronti, nutrizionale, mentale, atletico, tecnico. Veramente abbiamo fatto un lavoro a 360 gradi, non solo io ovviamente, tutta la mia squadra, tutte le persone che collaborano con me. E sono veramente contento e grato che questa gara sia andata in questo modo, perché è il mio modo di ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato concretamente e che hanno lavorato con me. Spero vivamente che questa medaglia sia da stimolo per i più giovani e porti sempre più persone ad avvicinarsi a questo sport che è duro, faticoso, ma è veramente, veramente bello. Perché ha dimostrato ancora una volta che per vincere bisogna lavorare in maniera professionale, con passione, con entusiasmo, con determinazione, ma soprattutto con la voglia di primeggiare. E' vero, le Olimpiadi sono la sintesi di un lavoro di anni e ci si gioca tutto in pochissimi centesimi di secondo. La canoa con sette atleti ha avuto un quarto posto nello slalom, ha avuto una finale per la prima volta di un K1 femminile con Francesca Genzo, ha avuto un nono posto di Samuele Burgo e poi mancava la ciliegina. Se non fosse arrivata questa ciliegina, il lavoro di una federazione non avrebbe avuto il riconoscimento che meritava. Lasciatemi dire due parole per Stefano Loddo, che ha lavorato in silenzio, con molta fatica. Non è facile gestire un atleta di questo livello per un anno e mezzo, perché non dimentichiamoci che abbiamo lavorato nel momento peggiore che ci possa essere il Covid. Questa medaglia va anche a chi ha sofferto in quel periodo, è una medaglia che va a tutti quelli che non sono riusciti a venire alle Olimpiadi ed è una medaglia che dedichiamo agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti della federazione, di tutti i club, perché finalmente si possa iniziare un percorso di squadra. È vero che è uno sport individuale, ma se si dovesse veramente percepire che cosa vuol dire lavorare per un unico obiettivo, e questo lo stiamo facendo già da oggi, a Castel Gandolfo ci sono i junior e gli under 23 per gli europei, la strada per Parigi è già partita, mancano due anni alle qualificazioni e ci andremo da protagonisti con un bel capitano.